Zio Ciro, sto preoccupata. Perché? Perché papà sta bevendo troppo vino. Guarda là una bottiglia sana sana. Non ti preoccupare perché io mi chiedo che hai un bicchino a mezzogiorno e uno la sera. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, non ti preoccupare, ma ci fai insieme. Ehi, come fa inizio che hai detto, mi chiedo, un bicchino a mezzogiorno e uno la sera, ma ti metto un bicchino lì e così stai a cuore. No, non ti preoccupare, già ti preparato. Ehi, tu non bicchino? Un bicchino. E se io bicchino è mezzio? Tava un pocamo, faz esse azeite.